Ragazzi, i biglietti sono già in vendita. Ma come? Doveva esserci ancora tempo. Non so cosa dirvi, sono in vendita. Aspetta, sei sicuro che siano proprio quelli di Star Wars? No, sono i biglietti di fiori d'acciaio 2, la vendetta. Il sito è bloccato, non mi fa entrare. Neanche a me, Dem. Maledizione, andranno i sauriti. Cosa facciamo? Va bene, è contrario a tutti i miei principi, ma mali estremi e estremi rimedi. Signore. Sono Sheldon Cooper. Tu e mia madre vi conoscete bene. So che ho passato la mia intera vita a negare la tua esistenza. Li ha presi! E lo farò ancora per il resto dei miei giorni! E stasera ci siamo. La lunga attesa è terminata. Meno male, così smetterete di parlarne. Pronti ad andare? Muoviamoci. Divertitevi. Facile. Non posso crederci che Sheldon non viene. Peccato, ci divertiremo più di lui. E invece no. Conoscendoli, direi di sì. Quindici minuti all'ora, X! Oh, hai sentito Will? Sì, sta arrivando. Controllo visciche. A posto. A posto. A posto. Fermi. Se mai la trattengo.